bene allora buonasera a tutti buonasera a tutti vediamo qui se si vede abbastanza bene vediamo con questa luce cosa possiamo fare di buono ecco mi pare che si veda abbastanza bene ieri sera un po era un po troppo sparata così è troppo sparata ma allora ciao elisabetta ciao cinzia cominciamo a salutare attendiamo che arrivino anche gli altri marcello giovanna poi vediamo dalla giovanna la cara giovanna marco marco ciao ciao cara giovanna mi fa piacere che ci sei eccoci qua eccoci qua allora pian pianino vediamo che si sta eliana e viva eliana che si sta riempendo il mio teatro virtuale la cara carla ecco la cara carla sì mi sono vestito di rosso milena alla milena che che bello finalmente la milena si vede che finalmente l'hanno liberata la erica ecco la erica la erica ma hai messo la foto no non c'è ancora la foto va bene pian pianino arriverà la foto maria teresa carmen ce ne sono stasera marlene marlene mamma mia quante quante belle amiche lamara e viva e viva e viva o dai o sì mi sono vestito beh io avevo detto che mi vestivo di rosso e buon suara marlene mi parla in lingua buon suar marlene vediamo se si collega anche anche instagram lilla lilia 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 sì ti vedo spesso in facebook finalmente ti vedo anche qua la lilia ecco la lilia dato facciamo i saluti dai va bene allora giornata bella giornata di sole oggi ho avuto l'opportunità di studiare dante che porterò a voi ho avuto la possibilità di farlo in terrazza ciao cara milena ho avuto la possibilità di farlo in terrazza pensate mi sono preso il sole addirittura mi sono messo con le braghe ecco che vediamo vediamo chi c'è sì anche c'è anche la instagram attivo dicevo che finalmente oggi è stata una giornata caldina schelzen 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 lullaku qua abbiamo anche stranieri eh qui la cosa sta diventando eh mario anton sta diventando la cosa l'affare si ingrossa come si dice l'affare si ingrossa va bene allora qua si sta riempendo il teatro si sta riempendo il teatro ciao salutiamo l'analisa cara e si sono vestito di rosso certo perché avevo chiesto di vestirvi eleganti maria chiara a maria chiara eccola qua che piacere e di vestirvi eleganti o nude o nudi quindi per piacere dopo voglio vedere le foto soprattutto di quelle nude va bene allora dopo 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 mi mettete chi vuole sotto il post può mettere la foto di come è vestita o di come è vestito d'accordo oppure se è nuda o se è nudo naturalmente se è nuda o se è nudo bisogna che o mi manda la foto in messenger va bene e oppure oppure cercate di farla un po' casta va bene avete messo qualcosa di rosso chi è che ha messo qualcosa di rosso che intanto aspettiamo gli ultimi che si siedono nel mio teatro virtuale teleteatro virtuale dunque sta guardando il video emmanuela ah l'emanuela c'è anche la cara rossella hai messo qualcosa di rosso rossella è tu che sei la mia no la mia suggeritrice dell'outfit e lei che è lei che mi consiglia come pettinarmi per esempio se io non avessi lei come farei no ti prego no proprio tu in tuta no va bene ma non ti mettere in tuta ma perché ti metti in tuta ma proprio questa sera che dovete essere eleganti io vi voglio portare fuori mi sono allenata e va bene che con questo dai mettiti qualcosa di rosso almeno d'accordo chi è che si è messa qualcosa di rosso chi è che si è messa qualcosa di rosso vediamo un po ma perché scrivono così piccolo qua tutto tutto piccolo ciao ciao ok vedi adesso c'è c'è la rossella che va a mettersi qualcosa di rosso va bene quindi emanuela ciao emanuela mamma mia quanta gente che bello grazie 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 di essere così tante e così tanti anche maschi ci sono eh ci sono anche uomini stasera bene bene allora sono emozionato a vedervi così numerosi ecco qua mi mandano anche dei sarà c'è anche la sarà sarà mary ciao sarà mary ecco per esempio la rossella mi dice che ha qualcosa di rosso ma non si è capito cosa non si è capito non dice cosa va bene poi lo sapremo dai allora chi è che ha qualcosa di rosso l'analisa l'analisa forse ha qualcosa di rosso va bene comunque o nude o vestite eleganti va bene vi voglio così vi voglio in festa come se questo è teleteatro cosa vuol dire teleteatro vuol dire che è teatro a tutti gli effetti solo che è tele telos cioè vuol dire lontano ah vedi qua qua c'è qualcuna che mi dice che mi farà vedere le foto in privato vedi la carmen dice che ha le pantofole rosse va bene va non è proprio un indumento c'è anche claudia la claudia la cara claudia chissà 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 la claudia se è qualcosa di rosso vediamo vediamo qui mi rispondono ancora qui mi dicono che un un fermaglio rosso per i capelli l'analisa ha messo un fermaglio rosso per i capelli non sarebbe proprio un indumento ma insomma è un accessorio dai è un accessorio va bene la claudia ha la claudia ha i calzini rossi pensate che bello possiamo immaginare alla sua sinistra la telecamera dice marco perché marco mi sta consigliando di fare una miglioria della telecamera sai caro marco io in realtà uso dei telefonini non uso neanche la telecamera quindi vabbè accontentiamoci dai tanto sono brutto comunque c'è una bellissima foto c'è qualcuno carmine c'è anche carmine davis ma guarda quanta gente stasera veramente sono proprio giuliana e viva e viva allora fermatevi non fate tapping analisa c'è un'altra analisa due analise ho ecco io ho la stoffa interna del reggiseno rosso hai capito qua qua l'affare si ingrossa cari amiche cari amici ho la stoffa interna del reggiseno rosso e beh ho qua vedi marco tu pensi alla telecamera qui vengono fuori cose di un certo peso eh allora non fate zapping non andate via siete in tanti non andate via rimanete con me spegnete ah perché non si vede tutta la faccia ma tanto sono brutto io marco non serve che si veda tutta la faccia il reggiseno vale certo che vale cara lilia quindi la lilia ci fa sapere che ha il reggiseno tutto rosso tutto rosso va bene è qua qua bisogna festeggiare dante dante e ci ricorda il colore rosso va bene allora fatemi sapere ancora quello che avete io adesso parto parto perché la serata è veramente di grande potenza certo che valgono le mutandine anche le mutandine allora via andiamo via via perché sennò poi mi distrago troppo e la che la è e dopo qua parto in tangente e chi è che mi che mi ferma più ma sul teatro l'espressione vale urca marco è insiste caro marco sì hai ragione però al momento facciamo così dai poi migliorerò le prossime volte va bene grazie comunque di esserci e grazie dei consigli datemi i consigli per esempio io non so come fare una scritta in sovraimpressione non so come mettere un'immagine mi piacerebbe farvi vedere le immagini di gustave duré di dante ma come faccio non sono capace allora se qualcuno poi anche me lo spiega magari più tardi volentieri grazie comunque marco dei tuoi consigli allora cominciamo questa bellissima serata dicevo spegnete la tv spegnete la televisione e dedicate tutto questo tempo come se foste a teatro va bene immagino che voi qualcuna di voi sia vestita elegante qualcun'altra sarà col pigiamone qualcun'altra appunto nuda o nudo ma l'importante è che non vi distraete se vi addormentate pazienza va bene anche il sonno l'importante è che non cambiate canale state con me facciamoci compagnia per un'oretta stiamo insieme e poi vedrete che questa cosa è molto bella e ci farà bene perché il percorso che stiamo facendo lo dico per chi è la prima volta che si collega con noi è un percorso straordinario si tratta di fare una un metodo dante diventa oltre che l'immenso poeta anche un metodo per stare meglio un metodo di resilienza si dice la resilienza è la resistenza è la soluzione è la guarigione per una persona che è stata molto male oppure che nel totale fallimento che cosa fa quello che si rialza dalla caduta è una persona che ha operato la sua resilienza ebbene c'è un metodo che è stato curato dal grande psichiatra psicanalista italiano assaggioli che poco pochi conoscono ma che lo conoscono più all'estero per la sua grande maestria e i fratelli schaub che hanno realizzato il metodo dante appunto di cui io parlo in queste serate libro praticamente introvabile che mi fu regalato ad una cara amica che purtroppo non segue vedo oppure segue nell'ombra perché sapete che ho saputo che ci sono persone che non volendo farsi vedere in facebook e in instagram possono seguire nell'ombra io questo non lo sapevo eppure mi hanno detto che è così allora grazie giovanna si fa bene al cuore fa bene al cuore e ci fa stare meglio soprattutto in un periodo silvana ci fa stare meglio soprattutto in questo periodo che è il periodo della clausura il periodo della carcerazione domiciliare e che stiamo subendo perché volenti o nolenti questo è un periodo difficile per tutti noi allora vediamo se qualcuno ci può dare dei consigli per stare meglio per essere belli pronti anche quando il momento verrà perché verrà sicuramente che ci apriranno le gabbie va bene allora cominciamo l'inferno la valle d'abisso dolorosa allora dante è brutale quando noi leggiamo la divina commedia soprattutto l'inferno dove entreremo a larghi passi già da questa sera ma già abbiamo cominciato nella recente nell'ultima lezione qui siamo nel ancora nell'ante inferno qualcuno dice più esperto ma comunque siamo già in una posizione di grande dolore dante è brutale perché nel descriverci dannati perché è brutale perché si infuria e si infuriava nel vedere gli uomini che si nuocevano a vicenda va bene si nuocevano a vicenda e lui naturalmente scrive nel 1300 quando è già in esilio quindi nella nostra amata e amabile romagna ma comunque in esilio e sul suo capo non dimentichiamo che pendeva una condanna a morte quindi non era una cosina da ridere era una condanna a morte quindi la paura di essere poi intercettato e preso ebbene lui non aveva motivo di certamente di abbellire le cose di essere reticente o politicamente corretto ed ecco la grandezza della commedia poi detta divina perché ci parla delle cose in modo diretto e appunto anche brutale d'altro canto il fascino che ha l'inferno più o meno lo dobbiamo anche a questa a queste descrizioni un po brutali diciamo no ecco allora sì in questo caso possiamo vedere finalmente che cosa sia realmente il concetto tipicamente dantesco che è il contrapasso allora l'inferno di dante non riflette la concezione religiosa diciamo tradizionale di un luogo dove vi sia un dio vendicativo che getta i peccatori nella ghienna ma descrive invece con una sottigliezza di particolari proprio con tutte le descrizioni di carattere anche psicologico il modo in cui dentro di noi opera ecco la una particolare legge di natura la particolare legge di natura che ci comporta un danno noi facciamo questo studio su dante alighieri perché serva a noi dante alighieri naturalmente centinaia di anni fa eppure è attuale anche oggi ecco perché è sommo e grande la sua letteratura perché vale anche oggi le storie di dante ci insegnano infatti la legge del contrapasso che cos'è la legge del contrapasso corrisponde al concetto orientale del karma quindi chi fa studi di tipo orientale induista buddista sa bene che cosa sia il karma oppure corrisponde guardate un po uomo coltissimo dante corrisponde al precetto biblico che si raccoglie ciò che si semina quindi anche oggi vale il concetto quante volte abbiamo sentito il papà o il nonno dirci guarda che si raccoglie chi semina vento raccoglie tempesta ecco questi sono concetti antichi come l'uomo c'è già nel vecchio testamento oppure corrisponde il contrapasso al progetto al precetto scientifico vedete che non c'è solo la religione ma il precetto scientifico di causa ed effetto che qualcuno che è esperto di diciamo filosofia antica e mi riferisco a quella greca fa subito riferimento ad empedocle va bene quindi pensate quanto indietro andiamo perché uno dice il precetto scientifico ora si parla della modernità ma quando mai la scienza nella sua base fondamentale nasce magari da criteri e da intelligenze le intelligenze talmente lontane che non sono nemmeno polvere oggi sono sono fiato vento quindi la il contrapasso in che cos'è alla fine è ogni azione che provoca una reazione va bene quindi l'idea moderna è che si ha ciò che si merita buona sostanza per insegnare questa legge ai suoi pazienti ricordiamo che a saggio di era uno psichiatra psicanalista ricorreva una semplice formula che è più o meno la seguente l'energia segue il pensiero chi è che ci ricorda questo anche la legge di l'energia segue il pensiero se per esempio volgete i vostri pensieri allo stato negativo dell'avidità e dell'invidia vi troverete a soffrire a soffrire a causa dell'energia bramosa proprio insoddisfatta da questo da questo sentimento negativo che è l'invidia quindi ogni azione provoca una reazione va bene quindi soprattutto la vecchia regola religiosa insegnava che saremmo stati puniti nell'aldilà se noi avessimo fatto per esempio il peccato di invidia la violazione del comandamento di non desiderare la roba d'altri no che c'è già nell'antico testamento per esempio no ma la verità è che l'invidia è qui il punto di assaggio il punto già della serata l'invidia ci fa soffrire nel presente nel presente la punizione sta nel momento in cui ci nasce l'invidia per quella amica lì perché al moroso bello e ricco ci viene l'invidia per quello lì perché ha la porsche perché la macchina come mai quello alla porsche alla macchina costosa e io giro con la mia panna eccetera la quindi l'invidia ci fa vivere già un nostro inferno personale perché ci fa nascere la causa ed effetto di un'energia negativa che ci fa solo stare male la legge del contrapasso quindi ci mette nella situazione difficile ma è anche ricca di speranza nello stesso tempo perché ci rende responsabili di come usare la mente e su cosa concentrarci con la nostra coscienza allora se ci nasce l'invidia per una persona magari a cui vogliamo bene anche può essere nostra sorella la cugina il fratello no se ci nasce l'invidia la prima cosa da fare è cercare di mettere luce a questo danno perché ci comporterà un'energia negativa che ci farà semplicemente stare male e quindi concentrarci su quello che andiamo a fare la lezione quindi che seguirà la lezione che seguirà ci insegnerà a coltivare la coscienza perché ci arrecchi una libertà interiore maggiore spiritualità e fare aprire le gabbie la gabbia i muri letterali così come fece assaggioli quando fu incarcerato dai fascisti bene lui fu incarcerato riuscì a sopravvivere a quella pena perché riuscì semplicemente a liberare la propria coscienza interiore attraverso la spiritualità in questo momento rendetevi conto che la mente può innalzarvi alle soglie dell'illuminazione o sprofondarvi nel barato dell'inferno noi possiamo davvero tutto e questa cosa uno dice ma io sto abbastanza bene eccetera è mio figlio che sta male è mia figlia che sta male è mio marito che sta male è mia moglie che sta male bene allora tu fai segui questa lezione perché se stai meglio tu porti luce a casa tante volte venivano i miei corsi di teatro antitimidezza anche una la mia allieva più anziana che non dico il nome ma aveva 84 anni delle rivine e la merita ma mi cosa vieni a fare da ti che soveccia o sono timida non so ho detto varrà probabilmente porti luce a casa infatti servì per suo figlio che era in una della mia età circa che aveva problemi gravi di depressione e lei dopo mi disse sai che è servito a lui bene bene allora discepoli della paura iniziamo questo pensiero che è tipico di assaggioli e più o meno la considerazione è la seguente quando scende nell'inferno no diceva assaggioli quando i miei malati sono nell'inferno vuol dire malati di mente che stavano male perché lui classifica malati di mente che stavano malissimo cioè nell'inferno che stavano che stavano migliorando nel purgatorio che erano guariti nel paradiso quindi un concetto proprio dantesco e lui dice quando i miei pazienti stavano nell'inferno la domanda che spesso mi facevano era la seguente perché siamo noi umani così cattivi guardate che le persone migliori che noi poi frequentiamo nella nostra vita parlo per me sono i miei amici matti io chiamo la gente diciamo normale sapete come la chiamo normoloide perché in realtà tutti siamo un po fuori di testa no soprattutto a causa di queste difficoltà che abbiamo nel vivere la perdita della libertà è una cosa difficile molto difficile ma quelli che proprio sono matti matti a tutti gli effetti anche sulla carta di identità che è scritto matto quelli ci dicono ci dando delle soluzioni a volte che sono straordinarie va bene e per esempio questa domanda è straordinaria no un matto chiede ad assaggioli perché noi umani siamo così cattivi ci viene in mente hobs no homini homini lupus perché gli uomini sono così lupi sono così cattivi e assaggioli sia fatto un'idea e risponde in questo modo perché nel corso dei secoli non abbiamo saputo gestire la paura la paura che noi non sappiamo gestire neanche oggi ci porta a quel sé biologico di cui parlavo la scorsa lezione e che corrisponde a quel sé biologico che ci porta a diciamo atteggiamenti di tipo di comportamento compulsivo che sono o la fuga o l'attacco o la fuga o l'attacco quello che accade adesso se ci mettono la fame se ci tolgono la libertà potrebbe accadere che vi siano delle proteste popolari delle rivolte perché perché i padroni del mondo ci vogliono vedere proprio così indeboliti e portati al sé biologico cioè alla nostra reazione più istintiva e bestiale che è quella di aggredire per prendere il cibo di rompere le catene per uscire alla libertà va bene allora la paura ci infondono paura i tg i giornali la prima cosa che fanno e l'unica cosa che fanno è portarci allo stato di paura perché la paura genera debolezza la paura toglie il senso critico alle persone la paura toglie i le palle al coraggio ci fa togliere e ci fa pensare forse meglio che non dico forse meglio che non parlo forse meglio che non agisco quindi a saggio dice bene dice la paura la paura è ciò che ci rende cattivi guardate i maschi io dico sempre no quando un maschio diventa violento in questo momento stanno aumentando in modo indiscriminato e le violenze in casa perché le donne sono costrette a stare in casa con il loro carnefice può accadere anche il contrario può accadere che anche le donne siano violente nei confronti di maschi però è più raro diciamo ecco non c'è nessuno che protegga le donne in questo momento i bambini le bambine va bene perché un maschio diventa violento perché ha paura noi maschi diventiamo violenti quando abbiamo paura questa è una regola che deve essere spiegata alle scuole elementari quindi a saggio gli dice bene perché risponde al matto perché noi uomini siamo cattivi perché non abbiamo ancora saputo gestire la paura e la paura da cosa nasce è questo interessante da che cosa nasce la paura a saggio gli risponde che la paura nasce dalla paura di morire in effetti i bambini finché sono bambini rimangono nella gioia del gioco quando è che cominciamo a stare male nella nostra vita in adolescenza e perché stiamo male in adolescenza perché in adolescenza c'è la scoperta della morte tutti noi in adolescenza cominciamo a capire che dovremmo morire ed è una realtà terribile va bene che poi in fase adulta in qualche modo cerchiamo di mitigare con il fare anche in adolescenza se abbiamo la fortuna di trovare una ragazza bella che ci ama un ragazzo bello che ci ama ma non è così semplice va bene allora anche il più ricco e il più famoso uomo del mondo a un certo punto finisce che muore e capita questo anche alle donne e questa che cos'è questa è la vanitas qui c'è tutta la filosofia umana ed è chi ci fa venire in mente il coelet no il coelet coelet che è contenuto nell'antico testamento ve lo accenno solo un po' per capire come 2000 più di 2000 anni fa già queste cose più di 3000 4000 anni fa queste cose già si sapevano e si dicevano e si era capito tutto sentite che cosa c'è scritto nell'antico testamento vanità delle vanità dice il coelet vanità delle vanità tutto è vanità quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole una generazione va una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa il sole sorge il sole tramonta si affretta verso il luogo da dove risorgerà il vento soffia a mezzogiorno poi gira a tramontana gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna e guardate cosa scrive il nostro caro dante alighieri scrive non è il mondam rumore altro che d'un fiato di vento avrà letto il coelet beh penso proprio di sì non è il rumore mondano cioè della vita nostra dell'esistenza breve che noi viviamo non è questo rumore questo frastuono che qualcun altro definiva carmelo bene definiva tutta l'esistenza umana non è altro che un frastuono di spade e pignatte ecco allora dante non è il mondam rumore altro che d'un fiato di vento e quando io chiesi a un vecchio all'ospizio di fregona molto anziano chiesi quant'è durata la sua vita e lui non mi aveva capito ho detto allora in dialetto quant'è durata la sua vita e lui mi ha risposto con il zè perché veniva dalla bassa mi ha detto 96 anni la mia vita si è durata un fiato la mia vita è durata un fiato che in veneto vuol dire un po' butte che su un fiato di malta vuol dire un fiato vuol dire un sospiro ma vuol dire anche un respiro e vuol dire anche un vento un fiato senti che è un fiato di vento che si alza guardate che la filosofia umana è in tutti noi noi possiamo nascere 6.000 7.000 anni fa e parlare del vento come qualcosa che corrisponde alla vanitas ed ecco le tre scelte certo che ho dita una roba bellissima dai mi fai un applauso Mimisol evviva 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 bene allora le tre le tre scelte le tre scelte le tre scelte che consiglia assaggioli nel suo percorso di psicosintesi vi ricordo che la psicosintesi è la l'insieme diciamo per dirlo in termini molto semplici l'insieme tra la psicoterapia la diciamo la psicologia e la spiritualità va bene attraverso il percorso dantesco tre dice sono le scelte possibili per cercare di vincere la paura lo stato di paura le vediamo insieme molto semplificandole però è questo che ci consente di capire la prima è di cercare di sfuggire alla realtà sfuggiamo alla realtà la seconda è di cercare di dominarla e la terza possibilità la terza scelta è di studiare in profondità la nostra esistenza intraprendendo un viaggio spirituale ed è proprio dicevo durante la sua esperienza sofferente del carcere romano quando assaggioli viene incarcerato perché ebreo ma perché soprattutto pacifista quindi pensate che reati che aveva commesso carcere duro è lì che assaggioli intraprende un viaggio spirituale che lo conduce alla libertà dalla paura e dalla gabbia come fa? attraverso la psicosintesi ragionando con la propria testa e mettendo in pratica la spiritualità la spiritualità ha un grande vantaggio perché è possibile utilizzarla con dei criteri che nessun carnefice ti possa trarre corrisponde al gioco dei bambini il bambino che gioca con lo scarofaggio nella gabbia del lager ha vinto il carnefice ha vinto Satana perché lo scarofaggio è il gioco Giorgio Celiberti bambino nel lager nel lager recluso nel lager vince il carnefice perché col coccio col coccio di una tegola incide piccoli cuori sul muro il cuore rappresenta la sua mamma lo dirà poi da adulto componendo quei quadri materici che tutti noi conosciamo e che apprezziamo ecco che quindi la spiritualità anche nella nostra gabbia del carcere quotidiano a cui ci stanno mettendo i nostri nuovi padroni ci consente attraverso Dante e a Saggoli di poter uscirne felici addirittura felici la spiritualità quindi ci consente di riuscire a porci lontani dal nostro ego dalla nostalgia dell'ego e appunto proviene solo dopo una serie di pratiche meditative spirituali ma io consiglio siccome sviluppo nei miei giochetti che faccio nel mio teatro antitimidezza cerco di portare indietro faccio una regressione infantile perché vedo che funziona funziona soprattutto con gli adulti più sei complessato più sei adulto e più è opportuno che tu fai dei giochetti fai dei giochetti infantili dei piccoli giochi adesso queste giornate qua non sta a giocarmi a dama a scacchi a bridge a scopone scientifico ma scopri i giochi di quando eri bambino soprattutto se hai dei bambini in casa naturalmente perché quello ci offre un'opportunità spirituale molto superiore quando Gesù dice i bambini vedranno il regno dei cieli e i poveri di spirito beati i poveri di spirito si riferisce proprio a questo e poi fa l'esempio a Saggoli e i fratelli Shaub fanno l'esempio del turco del turco Mevlana Rumi che è un poeta filosofo va bene il quale fa la metafora del dito del dito con l'ascesso dice se tu hai un dito con l'ascesso e per sbaglio l'ascesso cosa vuol dire una ferita pur lenta anche no un confiore con la ferita per sbaglio hai la minestra davanti vuoi sentire se scotta metti dentro il dito nella minestra ma il dito è quello ferito è quello ascesso dopodiché ti accorgi e dici ahi ho messo dentro il dito con l'ascesso lo lecchi te lo lecchi no e continui ti mangi tutta la minestra ma perché perché il dito con l'ascesso è tuo e perché la minestra è tua se viceversa se viceversa dice il turco no rumi lo fa il tuo vicino di tavolo magari sconosciuto che ha il dito con l'ascesso con il brufolo pur lento ti mette dentro il dito nella minestra no e poi dice oh scusa pensavo fosse la mia minestra ah ma mangia pure tu cosa fai di quella minestra dice il turco rumi non la mangi più dice ah prenda pure il mio piatto grazie ma non ho più fame sa come mai che cosa accade si chiede il filosofo turco rumi si chiede accade che qui si dimostra tutta la nostra povertà nella incapacità dice Einstein di considerarci un tutt'uno adesso c'è Donatella c'è c'è Liana ci sono tante persone Anna Lisa Rossella che mi ascoltano ebbene come si fa a spiegare Marco come si fa a spiegare che in realtà siamo un tutt'uno è difficile perché perché sviluppiamo questo immenso ego che ci fa solo stare male addirittura c'era il grande boccaccio che durante la peste dice le persone si odiavano a tal punto avevano diffidenza l'uno dell'altro a diffidenza la diffidenza arrivava al punto che si tenevano lontani anche fratelli e sorelle ma peggio ancora padre e figli ma peggio ancora madre e figlio e invece noi avremmo l'opportunità bellissima di considerarci una monade del tutto una molecola del tutto e allora non faremmo più guerra non faremmo non butteremmo più le cose nei rifiuti non considereremmo più un torrente una zona di rifiuto perché il torrente appartiene a tutti non appartiene solo a me o a te ecco allora il dito dentro ci fa capire che diventiamo cattivi perché vediamo il male negli altri e lo distinguiamo e ci fa schifo il male degli altri ci fa schifo l'infezione degli altri va bene soprattutto in questo periodo che ci fanno capire che siamo degli appestati vogliono farci capire tutti i mass media tutti i giorni tutte le ore che quello che ci sta accadendo è un nemico invisibile minaccioso imprendibile e solo i nostri cari padroni potranno aiutarci a difenderci questo che cos'è l'inferno è l'inferno che invece di essere quello di centinaia di anni fa lo viviamo anche in questo momento quindi avviciniamoci alle porte dell'inferno in questo caso dantesco e vedremo la calata gigante nei gironi sempre più bassi fino al buio fino al freddo fino alla buca gelida dalla quale sgorga ogni sofferenza avvicinandoci alla porta dell'inferno il nostro viaggiatore il nostro pellegrino legge un'insegna legge un'insegna che a tutti noi è nota e adesso ve la ricordo è un inesorabile avvertimento lasciate ogni speranza o voi che entrate a dimostrazione che l'inferno non ha in serbo alcuna speranza non ha in serbo alcuna risposta i dannati dell'inferno sono condannati a ripetere infatti continuamente quello che ricorda loro la loro dannazione il loro peccato il loro karma danneggiato la loro causa ed effetto il loro contrapasso perché sono e loro sono dannati in quanto è il loro danno che li ha resi dannati ma Dante ricordiamo è l'unico mortale l'unico vivente in tutto l'oltretomba perché anche la sua guida Virgilio è un'ombra va bene quindi ecco perché a saggioli lo prende ad esempio umano perché egli attraverso la calata dei tre mondi dei tre mondi dell'oltretomba emancipa se stesso passa purgandosi dal purgatorio e avendo la catarsi del paradiso si diventa esso stesso puro degno di vedere Dio ecco quindi che la la resilienza di Dante essendo egli un pellegrino che può operare un percorso nell'oltretomba la sua resilienza accade nel momento in cui Virgilio dice soprattutto vedendo il pellegrino impaurito perché Dante a un certo punto esprime tanta paura a vedere questi dannati che urlano perché comincia a vedere le pene dell'inferno ha tanta paura allora davanti a tanta angoscia Virgilio dice a Dante e qui siamo di fronte a una bellezza poetica dell'umanità tipica di noi italiani anche qui si conviene lasciare ogni sospetto ogni volta conviene qui si è morte e il pellegrino allora racconta è Dante qui che parla e poi che la sua mano alla mia pose con lieto volto un Dio mi confortai mi mise dentro le segrete cose questa è bellissima questa frase e io però vorrei tornare un attimo sopra ah non è qua va bene allora questa frase è bellissima e perché ci fa capire l'esatto istante guardate che Dante è anche un abile sceneggiatore è un regista straordinario è il primo cineasta della storia perché ci fa vedere le cose ci fa vedere che Virgilio come una guida solerte come un vero papà quando noi abbiamo paura da bambini e stiamo per attraversare una strada piena di traffico il mio caro papà cosa fece a Napoli una città caotica vide che io avevo paura nei miei occhietti e mi diede la sua grande mano e io misi la mia piccolina nella sua grande mano e lui come un Virgilio mi fece camminare nel vero inferno che è il traffico era il traffico di Napoli diciamo prima del coronavirus va bene Virgilio fa lo stesso dà una mano a Dante che come un bambino in quel momento ha paura e conforta e lo conforta teniamolo bene a mente questa cosa perché esistono nella natura della realtà forze potenti delle quali noi possiamo usufruire e positive che ci dimentichiamo durante tutta la nostra esistenza soprattutto quando abbiamo la calata nell'inferno quando è la calata nell'inferno? quando stiamo male quando tu ti senti in depressione quando non ti apivoglia quando sei arrabbiato col mondo sei arrabbiato soprattutto con te stessa con te stesso ti vedi vecchio ti vedi brutto ti vedi vecchia ti vedi grassa no? ecco allora quello è il momento della tua calata nell'inferno quando perdi il lavoro e non sai che santo chiamare quando pensi a cercare una corda per imparare a fare un nodo a cappio quello è l'inferno allora lì interviene assaggioli lì interviene la psicosintesi lì interviene la possibilità di venirne fuori Dante simbolicamente addita a queste forze che ci possono dare coraggio addita alle figure di Virgilio Beatrice Lucia e Maria di cui abbiamo visto l'altra volta che sono le guide che troverà Dante nell'ontretomba che ci sostengono nella vita ci danno forza ci incitano ad andare avanti con entusiasmo e a prescindere da quello che ci aspetta quindi come dicevo l'altra volta la prima cosa da fare soprattutto noi timidi e i veneti che sono stati educati dai padroni adesso i padroni stanno montando la cresta attenzione sono stanno diventando potentissimi violentissimi quegli stessi padroni hanno insegnato ai veneti a dire lavora e tasi magna e tasi io ho sentito anche parla parla ma tasi che l'è il colmo come fa a parlare a taser nel stesso momento voi ridete no? perché vi vedo vedo che ridete vi siete messi alla cosa rossa? avete messo qualcosa di rosso? perché stasera era previsto o vestito elegante o qualcosa di rosso o completamente nudi o nude vabbè poi mi fate vedere le foto allora dicevo cos'è che stavo dicendo non ricordo più adesso sì dobbiamo cercare di capire che invece bisogna chiedere aiuto perché il Veneto è stato abituato a taser a tacere è per quello che ci sono stati tutti quei suicidi negli anni passati perché hanno tolto hanno tolto l'opportunità del commercio dell'attività imprenditoriale adesso l'hanno chiusa definitivamente cosa accadrà? i giornaloni e i tg non parlano della sofferenza che in questo momento c'è nei cuori dei Veneti e io sto parlando del Veneto perché sono nel Veneto ma dovrei parlare della Lombardia dovrei parlare di tutta Italia diciamo della Spagna del Portogallo e tutto il Mediterraneo che è messo sotto Torchio sapete? vogliono vogliono sono predoni questi qui è un'ultima guerra questa va bene? e con che cosa la conquisteranno? con la paura la conquisteranno va bene? con la paura infusa dentro nei nostri cuori stavo per dire nei nostri cu ma dopo i eboni cavarmi via allora comunque entrano anche da lì perché sono supposte queste questi ragioni queste queste cose che faccio io sono supposte allora ah sì no volevo dire che il problema è che bisogna imparare a chiedere cerchiamoci una guida può essere una guida spirituale anche quando io faccio i tarocchi perché tra le tante cose che bizzarrie che faccio faccio anche i tarocchi ho fatto cento e quasi duecento letture ho fatto duecento letture e questa estate ci sono di tarocchi ma quelli seri quelli che bisogna studiare due anni per farli cioè quelli di Alejandro Jodorowsky ebbene lì quando veniva fuori la carta del papa o della papessa o dell'imperatore significa che molto probabilmente dico al consultato tu hai una figura che ti protegge chi è chi vedi come questa figura e lo lascio meditare un po' quasi sempre mi dicono una figura che non è più vivente quindi il nonno mi dicono papà la mamma figure non viventi oppure mi dicono anche figure viventi possono essere l'innamorato l'innamorata persino a volte c'è qualcuno che mi ha parlato persino di un figlio di una figlia viventi figli oppure persone che non ci sono più diciamo allora queste figure sono figure spirituali sia non viventi che viventi va bene certo quelle viventi sono più eh sì è vero ehm la Giovanna ecco bene allora abbiamo un'opportunità straordinaria che è quella di cercare un aiuto non dimentichiamo questa opportunità la scelta uno quindi prevedeva la fuga dalla realtà hai paura sei nell'angoscia sei nella disperazione beh c'è come scelta dice Shaw assaggio anche la fuga dalla realtà che però ci porta attenzione al sé biologico la fuga dalla realtà è un modo per superare la paura generata dalla consapevolezza della mortalità e dallo sforzarci in tutti i modi di tenere lontana la paura va bene ed ecco che alcuni negano di essere legati alla vita altri tentano di intorpidirsi di sovvertire la paura con comportamenti di dipendenza ossessiva sì perché la prima scelta può portare a condizioni pericolose perché non sviluppando il sé spirituale e nemmeno quello sociale e mantenendoci sul sé biologico ci porta magari a reazioni che sono quelle della natura ossessiva compulsiva quindi possono portare ai cosiddetti surrogati alla paura che sono in testa a tutti l'alcol per esempio oppure una sessualità smodata una ricerca ossessiva dell'occupare il proprio tempo il proprio spazio vuoto che cos'è lo spazio vuoto in casa c'è la televisione sempre accesa per esempio oppure anche di notte c'è la musica accesa o la televisione è accesa o la luce accesa non riesci mai a stabilire un contatto con il te stesso reale con il tuo vuoto impariamo quindi a gestire il nostro vuoto dice Assagio impara a gestire il tuo vuoto cerca di sviluppare anche il sé sociale e il sé biologico il sé sociale è chiedere aiuto trovare un virgilio nella tua vita il sé spirituale è cercare una guida spirituale quindi rivolgiti a quel nonno ogni tanto pensi alla nonna pensi a papà pensi alla mamma e perché non ti rivolgi non siamo soli oppure lasciatemi credere a me che sono un credulone che non siamo soli va bene addirittura io penso che mi assista la mia cagnolina la mia cagnolina che è nel cielo io penso sono un credulone che mi assista vediamo alcune di queste terzine fantastiche meravigliose potentissime del terzo canto dell'inferno di Dante ve le ricorderete perché sono note come la nostra aria che respiriamo per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va tra la perduta gente giustizia mosse il mio alto fattore fecemi la divina podestate la somma sapienza il primo amore dinnanzi a me non fur cose create se non eterne e io eterno duro lasciate a ogni speranza voi che entrate queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta perché io maestro il senso l'orme duro ed è lì a me come persona accorta qui si convien lasciare ogni sospetto ogni viltà convien che qui sia morta noi siamo venuti al loco oh vio t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto e poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto un dio mi confortai mi mise dentro le segrete cose qui vi sospiri pianti e alti guai risonavano per l'aere senza stelle perché io al cominciare ne lagrimai sentite quanto è bella questa descrizione del volto di Dante che ci appare con le lacrime tale è la paura tale è l'affanno tale è il dolore che gli riempie il cuore lui vivente e mortale al veder questi dannati nella sofferenza inaudita e reiterata eterna insuperabile eterna nell'eternità superando la soglia dell'inferno il pellegrino il pellegrino e il virgilio vedono una schiera di anime che freneticamente corrono corrono dietro a un'insegna vuota vi sono calabroni e vespe che ronzano intorno alle facce dei dannati e le pungono continuamente e questi dannati i nudi continuano inesorabili la loro corsa urlano si disperano piangono piangono lacrime sudore e sangue ed egli a me questo misero modo tengon l'anime triste di coloro che visse senza infamia e senza lodo fama di loro il mondo esser non l'assa chi sono? beh lo sapete di chi sto parlando sto parlando degli ignavi chi sono gli ignavi? gli ignavi sono coloro che vissero senza infamia e senza lode cioè coloro che possono essere definiti con un sinonimo efficace gli indifferenti coloro che nulla fecero né di male né di bene che non presero mai posizione che non ebbero mai un'ideologia che hanno vivacchiato nell'ombra non vivendo sopravvivendo anzi io amo dire sottovivendo non facendo nulla ma si lascia che sia non prendendo posizione non alzando la voce l'indifferenza degli ignavi che paventano la necessità di non essere toccati dalla vita ovvero non vogliono vivere gli ignavi ne conoscete anche in questo momento state pensando a qualcuno che conoscete anche a voi stessi tutti noi tutti noi abbiamo avuto un momento in cui siamo invidiosi tutti noi abbiamo avuto un momento in cui siamo stati ladri tutti noi abbiamo avuto un momento in cui siamo stati golosi tutti noi abbiamo un momento in cui siamo stati lussuriosi beh questa è una cosa che è abbastanza e tutti noi abbiamo avuto un momento in cui siamo stati ignavi va bene? allora poi mandatemi le foto che siete nude perché ci tengo io in privato anche nudi perché no ma si apriamoci al mondo allora stasera non che vede non so come mai praticamente quello che stavo dicendo è che gli ignavi stiamo concludendo più o meno gli ignavi è l'indifferenza degli ignavi che cos'è? è la non volontà di voler vivere è il non voler provare emozioni infatti il sangue e le lacrime del loro pianto, del loro sudore per la corsa incessante perché nel contrapasso sono costretti sono costretti a correre quindi ad essere attivi continuamente la corsa incessante nudi nudi quindi la nudità gli costringe la verità nuda veritas la sofferenza segna i loro volti il pianto costante fa venire fuori lacrime anche di sangue dai loro occhi che segnano i volti e tutto il loro corpo fino alle lacrime anche di sangue finiscono nel fango dove loro sono costretti a correre e che è tutto pieno di vermi va bene? il sangue è tutto pieno di vermi che si nutrono delle lacrime del sangue degli indifferenti cioè di coloro che non hanno voluto vivere nella loro vita l'indifferenza degli ignavi può manifestarsi tramite il sarcasmo il cinismo la miastenia il rifiuto cronico di decidere tramite la quiescenza passiva anche di ciò che vogliono gli altri un ignavo può essere vostro marito vostra moglie che dice che non prende mai decisioni va bene? nel nostro inferno esistenziale quotidiano tutto ciò provoca che cosa? danni l'inferno essere ignavi a un certo punto ci crea dei danni che sono la stanchezza cronica la miastenia la depressione la voglia di non fare più niente la mancanza delle motivazioni della vita anche i ragazzi i ragazzi possono essere preda dell'ignavia perché decidono di non studiare più per esempio adesso che non c'è più la scuola molti soprattutto maschi è un problema grave nelle famiglie di cui non c'è un TG un TG che ne parli molti maschi molti ragazzi stanno mollando tutto non hanno più voglia di studiare questa è ignavia ignavia non è semplicemente una colpa un peccato può essere anche una condizione di depressione non ho più voglia di fare niente mi butto sul divano e sto lì e mi gratto le palle tutto il giorno oppure quelli che non decidono tutta la vita vivono una loro vita insopportabile sono anche questi di aggressivi passivi che stanno tutto il tempo seduti sul divano criticano magari il mondo che sta fuori criticano gli altri ma non decidono nulla non prendono una posizione poi vanno a lavorare in ufficio spostano il loro culo dal divano a quello della sedia dell'ufficio e dicono signor sì a qualunque padrone che passi nel loro percorso di lavoro ecco e se ne escono con frasi te l'avevo detto io oppure tu fai solo danni a chi lo dicono a quelli che lavorano tu fai solo danni meglio che non fai niente stai fermo a non fare niente tanto poi tutto passa e non serve a niente a darsi da fare cioè ci trasferiscono la loro la loro noia ecco un attimo che adesso devo ripristinare instagram perché se ne sta andando un attimo solo ecco ripristino un attimo solo instagram perché dura solo un'ora ecco ho ripristinato instagram va bene stiamo concludendo quindi non decidono mai nulla questa cosa la soffrono devo dire soprattutto le donne sono le donne che di solito ci dicono decidi qualcosa fai qualcosa sei noioso non fai niente non decidi niente non decidi neanche le vacanze quindi questo è il punto ma che danni comporta avere in casa un marito ignavo una moglie ignava un fratello ignavo comporta di danni enormi perché il danno che fa l'ignavo cioè il passivo aggressivo è di non fare niente eppure di essere irritante proprio per quello ma la cosa peggiore che fa l'ignavo è l'indifferenza tu fai un quadro non dice niente eppure c'è il quadro io facevo quadri una volta mi ricordo un amico veramente ignavo insopportabile entrava a casa mia facevo quadri anche di nudità aperta eccetera quando ero poco più che adolescente non diceva niente ma dico ma avrei visto cosa ho fatto no? guarda cosa ho fatto ah sì vabbè l'indifferenza tu metti degli stivali verdi shock ma è possibile che la tua amica non ti dica niente oppure tu sei l'ignavo perché non dici niente si è comprato la bicicletta nuova il tuo amico diglielo no? ha speso magari gran parte del suo stipendio per comprarsi la bicicletta perché è appassionato di ciclismo a me perché non mi dicono mai che ho cambiato pettinatura eh l'indifferenza sapete cosa genera nei bambini secondo studi e ricerche ma lo stesso assaggio lì ne parla nei bambini genera un danno terribile perché nei bambini genera l'ipercinetismo l'iperattività soprattutto fuori casa a scuola diventano poco attenti diventano quando sono adolescenti o puberi diventano dei vandali diventano quegli stessi ragazzini che poi ti portano una nota a casa e scoprono assaggio gli diceva perché il bambino che spacca per esempio il vaso a cui teneva tanto la suocera tua suocera perché spacca proprio quel vaso gli avevi detto stare attento non toccare quel vaso di merda dimmi a suocera perché sennò lei lei ti fa si arrabbia e il bambino cosa fa spacca il vaso perché lo fa ma perché sei stata indifferente con lui perché non gli hai dato attenzione che lui aveva male alla pancina perché non gli hai dato attenzione che lui faceva i tuffi in piscina e l'indifferenza nasce anche da adulti ma caspita ho studiato 15 anni della mia vita ho trovato finalmente un lavoro non mi dici niente è un lavoro faticoso perché non mi dici niente l'indifferenza uccide anche le persone più solide dal punto di vista psichico quindi ecco cerchiamo di dire no a qualcosa cominciamo noi visto che a noi non ci dicono niente no soprattutto parenti e amici i parenti e gli amici sono i peggiori quando noi facciamo teatro chi è che non viene a vederci i parenti e gli amici magari gli amici più sensibili più buoni sì ma la gran parte degli amici io accompagno in scuola che non guarderanno mai le mie le mie dirette non le guardano perché sono invidiosi probabilmente ma soprattutto perché noi vuol darmi soddisfazione io preferirei che il mio amico di scuola mi dicesse quanto coglione sei stato quanto ignorante sei preferisco all'indifferenza un giudizio negativo quindi impariamo dal dolore che riceviamo ecco questo dice Assaggeli e i fratelli Schaub dalla dannazione che noi riceviamo impariamo ad essere noi migliori degli altri se la tua amica non ti dirà mai che bella la tua nuova conciatura tu ci hai messo quattro ore a farla questa conciatura è possibile che non dica niente non dirà niente allora tu dici a lei tu dici a lei vedi che ha una collanina nuova dici ah bella quella collanina lì non ti piace non importa glielo dice lo stesso usiamo la psicoscenica ludocurativa di Paolo Girusso lo diciamo lo stesso imperiamo quindi a dire espressioni come ti voglio bene esprimiamo le nostre emozioni ti voglio bene ti amo mi manchi mi hai ferita anche quelle negative ti odio non ti sopporto più sono stanca aiutami ti prego accarezzami perché non mi hai detto niente di quel quadro fammi un massaggio dammi coraggio sono felice sono innamorata sono serena sono triste sono agitata oppure quelle propositive che ci fanno diventare nell'io spirituale ti aiuto io ti voglio bene sono io non ti preoccupare ti do io i soldi perché non hai più da mangiare per tuo figlio lo sappiamo che quella famiglia sta male occorre che pensiamo che debba intervenire il contaccio il conte lo zaia facciamo noi l'aiuto soprattutto se sei ricca se sei ricco porti tu qualcosa a lei a loro avete visto come Virgilio ha aiutato Dante e gli ha dato la sua mano e poi e poi che bel viso che hai a chi lo possiamo dire lo possiamo dire anche a chi un viso crede di non averlo più perché è stata abbandonata dal suo amore a chi crede che un viso non ce l'abbia più perché è stato è stato abbandonato dal suo amore e se voi considerate che quella persona lì non si possa assolutamente assolutamente diciamo tirare fuori dalla sua ignavia prendete il coraggio a due mani prendete il coraggio a due mani a tre mani a quattro mani anche i piedi e mollatelo mollatela forse anche per gli ultimi tre mesi della vostra vita io che frequento gli ospizi adesso non si può più stanno uccidendo tutti i nostri vecchi io che frequento non gli addetti gli addetti sono bravissimi i nostri cari padroni ma dico io che frequento gli ospizi sapete che cosa mi dicono le care os le care infermieri i cari medici che sono dentro negli ospizi a cui va tutto il mio affetto e la mia riconoscenza in questo momento perché sono nel pericolo sapete cosa mi dicono che lì nascono amori straordinari tra novantenni tra un novantenne e una novantaquattenne sono gli ultimi mesi della loro vita e sono una persona mi ha detto è il vero amore della mia vita quando l'ho conosciuta l'ho conosciuta tre mesi fa qua in ospizio l'ultimo consiglio che dà a Saggeli è che devi cercare di essere il genitore di te stesso se intorno a te qualcuno mi scrive io ho solo degli stronzi se intorno a te hai solo degli stronzi bene sii genitore di te stesso e di a te stesso è bene che non frequenti persone cattive non accettare caramelle da quella persona perché quella persona è cattiva bisogna prendere il coraggio di cambiare la nostra strada lo dice a un certo punto proprio il nostro caro Virgilio a costo anche di stare male per un po' io non prendo responsabilità naturalmente perché dopo dice sta qui là che mi parla con i video perché mi ho visto i video sta qui là sta colpa sua se ti ho assa però ti meritea di essere assa perché ti sei un ignavo ti capito perché dopo mi trovi qua tutti i maritini o le mogliettine comunque questo qua quando lui dice ed è lì a me come persona accorta qui si conviene lasciare ogni sospetto ogni viltà conviene che qui sia morta ce lo dicono già gli antichi è inutile che continuiamo ad avere paura del cambiamento perché siamo vocati nella nostra breve esistenza a operare dei cambiamenti sempre costantemente altrimenti se non facciamo il cambiamento ci troveremo ad essere dannati nella ignavia a girare continuamente nella 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 nostro dolore di non aver vissuto e concludo e poi vi lascio con un'espressione di un grande mistico il quale disse che l'inferno è il seguente disse lui quando noi moriamo ci sono pochi istanti che ci conducono alla morte la nostra morte è in realtà il tempo il tempo che ci separa dall'ultimo respiro quando accade l'ultimo respiro c'è un tempo in cui noi vediamo tutta la nostra vita ce la fanno rivedere tutta quanta ma sapete nei minimi dettagli come fa Dante ce la spiegheranno nei minimi dettagli va bene nel momento in cui noi vediamo tutta la nostra vita poi improvvisamente vediamo quello che saremmo stati cioè magari tu saresti stato una ballerina un etuale magari tu saresti stato un grande poeta tu saresti stato uno scultore tu saresti stata una grande scrittrice chi lo sa un agricoltore straordinario un vivaista straordinario un medico straordinario ebbene quando vedremo chi saremmo potuti essere e non siamo voluti essere e ne saremo consapevoli dice il mistico quello sarà il nostro inferno concludiamo con la pratica della buona nanna allora mettetevi sedute seduti meglio seduti e facciamo aspetta Carmen facciamo la pratica della buona nanna va bene e poi andiamo tutti a letto va bene allora questa pratica della buona nanna ci porterà al nostro prossimo incontro che è mercoledì prossimo quindi mercoledì e domenica facciamo questi incontri sulla psicosentesi dantesca e queste notti che ci separano chiediamo alle notti che ci tolgano via la ignavia va bene cioè che ci diano voglia di fare soprattutto quando ritorneremo ad avere le gabbie aperte quando i nostri cari padroni ci apriranno le gabbie va bene allora chiediamo di avere la voglia la motivazione di vivere e di poterla trasferire ai nostri cari va bene allora diamo i bacini al cielo prendiamo tutti i bacini delle manine mettiamo le manine al cuore sorridiamo le manine e poi tutti per me tutti per me tutti per me poi diamo i bacini al mondo prendiamo tutti i bacini nelle manine mettiamo le manine al cuore sorridiamo le manine e poi tutti per me tutti per me tutti per me e diamo per l'ultima volta i bacini al cielo prendiamo tutti i bacini nelle manine mettiamo le manine al cuore sorridiamo alle manine e poi tutti per me tutti per me tutti per me evviva grazie a voi tutti allora mi stanno chiedendo qualcuno vuole telefonarmi è così? se è vero scrivetemelo e dedico ancora qualche minuto se qualcuno vuole farmi delle domande o telefonarmi però devo cambiare sistema non mi telefonate subito devo capire se è vero va bene no io direi che concludiamo così questa serata va bene concludiamo così questa serata vi ringrazio a tutti quanti siete stati molti che avete seguito questo bel appuntamento spero che vi sia servito non perdetevi le prossime lezioni perché abbiamo la possibilità di fare un bellissimo percorso di grazie Eliana di fare un bellissimo percorso insieme per stare per stare meglio per stare meglio grazie Rossella grazie Carla per stare meglio in questo periodo davvero difficile per tutti noi buonanotte a tutti mandatemi le foto voglio vedere le foto le foto di come eravate vestite o nude anche gli uomini dai anche gli uomini evviva grazie a tutte grazie evviva e viva